FCP Asso Cinema ha commissionato a Cantar una ricerca sul mezzo cinema per comprenderne l'efficacia e l'efficacia della comunicazione che viene fatta al cinema. Partiamo dai risultati di questa indagine. Nonostante il cinema in Italia sia ancora un mezzo che catalizza poca parte degli investimenti pubblicitari, dall'indagine emerge che è un mezzo efficace per entrare in contatto con gli spettatori. Riassumiamo un po' i principali risultati. Sì, esattamente. Abbiamo svolto questa analisi per conto di FCP Asso Cinema con l'obiettivo di comprendere quale può essere il ruolo di un mezzo che oggi non è sfruttato in maniera estensiva in termini di investimenti. Il nostro focus è proprio quello di cercare di comprendere quanto l'esposizione a questo mezzo possa essere efficace nella cambiare gli atteggiamenti, motivare le persone, rendere memorabile l'esperienza della marca. Le evidenze che ci ha restituito l'analisi fondamentalmente esprimono innanzitutto un punto di partenza molto positivo dal punto di vista dell'apertura, la predisposizione delle persone a ingaggiare la loro relazione con le marche. Il cinema di fatto offre audience particolarmente predisposte all'interazione e a vivere delle esperienze, esperienze che di fatto si manifestano poi in una capacità di memorabilità e costruzione anche di associazioni positive nei confronti della marca che hanno degli indici sicuramente significativi. Si è visto anche che il cinema è molto efficace in integrazione con altri mezzi pubblicitari, giusto? Esatto, questa forza di generare un coinvolgimento molto forte e un'interazione molto impattante sul consumatore a fronte di una esposizione, di una copertura più contenuta, ben si concilia invece con mezzi che a maggior copertura con investimenti più importanti riescono poi a magnificare l'effetto dell'esposizione congiunta in un momento, in un contesto, quello del cinema, che riesce ad andare più in profondità e quindi a far sedimentare meglio tutte le esposizioni vissute negli altri mezzi. Pubblicità efficace forse anche perché, come abbiamo visto, gli spettatori sono in un ambito più rilassato, quindi più ben disposti ad accoglierla quando vanno al cinema. Esatto, questo è il trucco del cinema. Le persone quando andiamo al cinema ci troviamo in un contesto proprio di mindset, di emotivo, che è di rilassamento e di prodisposizione a vivere delle gratificazioni emotive, quindi sicuramente siamo pronti a raccogliere gli stimoli che arrivano dalle storie che ci verranno raccontate nel film che andremo a vedere e anche nelle interruzioni, nei filmati, nelle storie che ci vengono raccontate dalle marche prima dell'inizio del film. E quali le modalità più efficaci, se non so se avete analizzato anche questo aspetto, per ingaggiare attraverso la pubblicità il cinema, cioè puntare sullo storytelling, ad esempio, può essere efficace? Certo, esattamente. Parliamo di persone che entrano in sale per ascoltare, vivere delle storie e narrare storie che si arricchiscono anche oltre quello che è l'elemento del video visto in altri contesti, quindi storie più complete, più complesse, più profonde, è sicuramente il modo migliore per ottenere un impatto in sala.